Salve a tutti amici di Campania Nel Pallone, eccoci qui ritrovati per un riepilogo generale in merito a quanto accaduto nella serata di ieri in occasione della gara che ha visto il Napoli sbancare lo stadio olimpico imponendosi per 1-0 ai danni della Roma e conquistare l'undicesima vittoria consecutiva. È la seconda volta nella storia che gli azzurri riescono ad ottenere ben 11 successi di fila tra tutte le competizioni ma la prima in assoluto all'interno della stessa stagione. Infatti il record appena eguagliato risale al lontano 1986 quando il Napoli con Ottavio Bianchi in panchina ed ovviamente Diego Armando Maradona in campo riuscì ad ottenere le proprie 11 vittorie consecutive tra aprile e settembre. Dunque tra la fine della stagione 1985-1986 è l'inizio dell'indimenticabile stagione 1986-1987 che vide il Napoli conquistare il primo scudetto della propria storia oltre alla terza Coppa Italia delle sei in bacheca che Diego e compagni si aggiudicarono con il record di 13 vittorie su 13 gare disputate. Tornando a Roma-Napoli ieri era la serata in cui un po' tutta Italia sperava in un nostro passo falso in questa gara trappola contro una Roma che ha incentrato il proprio piano partita esclusivamente sull'intento di portarsi a casa lo 0-0. Infatti ieri se da una parte c'era una squadra che porta in campo il calcio vero che rappresenta un modello stimato ed applaudito dall'Europa intera nonché il fiore all'occhiello del calcio italiano, dall'altro lato c'era una squadra che non ha giocato a calcio ma che ha giocato a calci, una Roma super catenacciara che ha puntato tutto sull'ostruzionismo anche adoperando degli atteggiamenti che personalmente non ritengo idonei a questi livelli in quanto nel corso dei 90 minuti a più e più riprese abbiamo visto i calciatori della Roma provocare i nostri per non parlare delle varie scenate di José Mourinho volte a mettere pressione all'arbitro ma a fare giustizia è il destro terrificante di Victor Rosimène che segna la vittoria del calcio. Un gol davvero pazzesco del centravanti nigeriano che riceve una gran palla dal subentrato Matteo Politano si inserisce alle spalle di Smalling e poi fulmina Rui Patricio con il suo tiro che va ad infilarsi sul palo lontano. Un successo di importanza capitale che consiste nell'ennesima grande prova di forza, nell'ennesima grande prova di maturità e vanno fatti i complimenti alla squadra per essere appunto riuscita a mantenere il sangue freddo in quel contesto che comunque si era venuto a creare soprattutto per il contesto ambientale che non era per nulla semplice. Poi ripeto era tutt'altro che facile mantenere la calma dinanzi all'ostruzionismo della Roma, ai tanti falli, alle tante provocazioni ma davvero questa squadra è sempre sul pezzo, ha un carisma e una determinazione da vendere ed anche lo stesso Luciano Spalletti l'ho visto molto soddisfatto nel post gara di quello che è stato l'atteggiamento della squadra che ripeto ha costantemente avuto in mano l'iniziativa per larghissimi tratti è stata all'interno della metà campo della Roma. Dal punto di vista della qualità di gioco ieri siamo stati un po' meno brillanti ma ciò forse era quasi inevitabile per come la Roma ha affrontato la gara e anche per le condizioni del terreno di gioco dell'olimpico che erano tutt'altro che buone. Analizzando la prestazione dei singoli ovviamente il premio di migliore in campo va per forza di cose a Victor Rosimè, match winner e protagonista del terzo gol consecutivo dopo il suo rientro dall'infortunio. Ieri Spalletti con le scelte di Victor Rosimè e Mattia Solivera ha voluto puntare sono 11 di maggiore fisicità prevedendo quello che sarebbe stato il canovaccio della gara. Infatti inizialmente c'era qualche perplessità in merito alle esclusioni di Mario Rui e Raspadori ma come sottolineato più volte dallo stesso tecnico questa è una squadra composta da tanti titolari che non ha un 11 titolare fisso e ieri Spalletti ha confermato di saper sfruttare davvero alla grande la variabilità, l'ampia variabilità di opzioni a propria disposizione. Tra i migliori in campo senza alcun dubbio anche Mattia Solivera che ha dato tanto filo da torcere a Nicolò Zaniolo prevalendo quasi sempre nei contrasti grazie alla sua fisicità inoltre ha sfruttato al meglio anche quelle che sono le sue ottime doti in progressione. Infatti da delle sue percussioni palla al piede sono nate diverse situazioni pericolose che hanno comunque portato il Napoli a tirare verso la porta difesa da Rui Patricio e dunque anche Mattia Solivera partita dopo partita si sta dimostrando un innesto preziosissimo e che farà davvero molto comodo anche sulla fascia sinistra. Ora c'è davvero l'imbarazzo della scelta per Spalletti tra Mario Rui e il terzino uruguaiano e questo dato di fatto consiste in un salto di qualità non indifferente in quanto nelle passate stagioni il povero Mario Rui è sempre stato costretto agli straordinari considerati i problemi fisici che non permettevano a Fuzzi Gulam di poter scendere in campo con una certa continuità. Poi non si può sottolineare la prova egregia di Kim Min-jae. Il coreano nella notte dell'Olimpico è stato ancora una volta sensazionale giganteggiando sulle palle alte continua a sorprendere la sua perfetta tempestività di intervento il suo senso della posizione non ha inciso per lui lo spostamento sul centrodestra l'intesa con Juan Jesus sta migliorando dopo che comunque il coreano era ormai ben collaudato in coppia con Rachmani sul centrosinistra ma davvero il numero 3 azzurro si sta dimostrando un difensore universale universale a dir poco e che non dà alcuna impressione di essere un calciatore alle prime armi nel calcio italiano non dà alcuna impressione di essere un calciatore che soltanto da pochi mesi si è trasferito in un contesto totalmente nuovo a lui per lingua e cultura anzi sembra un veterano di questo Napoli sia per quello che è il suo rendimento in campo e per quella che è l'intesa con i compagni sia comunque per la garra che mostra per la grande personalità e anche comunque per il ruolo importante che è riuscito ad assumere all'interno dello spogliatoio e dunque adesso Napoli che tornerà in campo mercoledì per affrontare i Glasgow Rangers come ben sappiamo la qualificazione agli ottavi di finale è già ottenuta ora l'obiettivo è vincere il girone ma nella gara contro gli scozzesi sarà obbligatorio un turnover piuttosto massiccio per far rifiatare coloro che comunque sino alla pausa per i mondiali sono attesi davvero da un tour de force intensissimo infatti a partire dalla gara contro i Rangers ci saranno da affrontare ben sei gare nel giro di appena 18 giorni e dunque considerato che in Champions League comunque la qualificazione matematica agli ottavi è già stata ottenuta bisogna per forza di cose per un turnover che possa appunto far rifiatare coloro che comunque hanno bisogno di un po' di riposo in vista delle partite di campionato dunque un Napoli che conferma la propria straordinarietà un Napoli che conferma oltre alla capacità di riuscire sempre ad imporre il proprio gioco ad inseguire i propri principi mostra anche la capacità di sapersi adattare al tipo di gara di prendere le contromisure a qualsiasi tipo di avversario una squadra davvero camaleontica a 360 gradi dunque detto questo è tutto appuntamento a mercoledì sera dall'esterno dello stadio Diego Armando Maradona per il pre e il post gara di Napoli Rangers buona serata a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti